Se c'è una persona nel nostro panorama politico nazionale che negli ultimi tempi si è completamente defilata e dalla quale invece avremmo certamente gradito avere un suo parere su tutto quanto è accaduto in questi ultimi giorni, beh, quella persona è proprio Beppe Grillo. Invece incredibilmente il Beppe Nazionale ci ha abbandonato. Curioso, vero? Prima il silenzio sulle dimissioni di Di Maio che lo stesso Beppe Grillo aveva non molto tempo fa incoronato nuovamente, incoronato come capo politico del movimento. Ricordate il video famoso all'interno dell'albergo romano. Ma soprattutto stupisce l'assoluto silenzio in merito ai risultati clamorosi delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Anzi, a dire la verità, non stupisce il silenzio di Beppe Grillo, visto che forse era stato programmato, diciamo così. Mi chiederete, programmato? In che senso programmato? Beh, nel senso che Beppe Grillo proprio lunedì, lunedì scorso insomma, il giorno successivo alle votazioni regionali, ha comunicato di soffrire di apnee notturne. Primo a darne la notizia è stato l'Huffington Post, il giorno dopo è comparso anche sul suo famoso blog. Beppe comunica che si vede così costretto ad annullare gli spettacoli programmati a Palermo e Catania negli ultimi giorni del prossimo mese di febbraio, specifica infatti che dovrà operarsi, sottoporsi ad un intervento chirurgico al quale, come di consueto, seguirà un periodo di convalescenza. Bene, il disturbo del quale soffre Grillo deve essere, diciamo, ad uno stadio abbastanza avanzato, visto che le apnee notturne, solo in casi particolari, richiedono un intervento chirurgico. Nella maggior parte dei casi invece è sufficiente una terapia farmacologica, alla quale naturalmente si deve certamente abbinare una dieta che porti ad un calo del peso corporeo, visto che è proprio l'obesità il fattore che quasi sempre determina questo problema. Comunque facciamo gli auguri per la sua salute a Grillo, anche se riteniamo sia doveroso specificare che le apnee notturne non impediscono alle persone di parlare, non giustificano quindi l'assoluto silenzio del comico, soprattutto in giornate campali per il Movimento 5 Stelle. Ma le stranezze del Movimento e di Peppe Grillo ormai sono diventate una costante. E allora cerchiamo di ricostruire i fatti. A giugno del 2018 nasce il governo giallo-verde, tutto normale, anzi quasi anomalo perché sembra proprio sia un governo che piace agli italiani, ovunque vanno i due vicepremier ricevono applausi, insomma, anche la legge di bilancio, la famosa finanziaria, insomma, che solitamente è quella legge che insomma crea un po' di malumori nella popolazione, beh è stata accettata senza particolare mugugni dagli italiani. Unico neo, diciamo, è che le varie elezioni regionali che si susseguono, insomma, vedono sempre prevalere la Lega e soccombere il Movimento 5 Stelle alla lunga, è chiaro che ciò potrebbe portare a dissapori, ma si sa che il Movimento fondato da Grillo è penalizzato alle amministrative, quindi la cartina di tornasole, diciamo, si vedrà con le elezioni europee. Ed è quello proprio il punto nodale della vicenda. Non solo vedono un trionfo per la Lega e una netta sconfitta per il Movimento 5 Stelle, ma le due forze politiche si dividono pure in Europa, il Movimento 5 Stelle vota a favore della von der Leyen e la Lega contro. E la cosa più rilevante è che i voti dei pentastellati risultano determinanti per l'elezione della pupilla della Merkel. La prima stranezza. Da lì naturalmente le cose cambiano, anche se Salvini, nonostante tanti siano tanti a consigliarlo di staccare la spina per tornare al voto, oppure perlomeno di chiedere il cosiddetto tagliando al governo, cioè cercare di pretendere perlomeno una distribuzione dei ministeri diversa da quella che si era avuta un anno prima. Tuttavia da quel momento, sia dalla fine di maggio dello scorso anno, le cose cambiano. Sembra che il Movimento 5 Stelle non voglia più rispettare il celeberrimo contratto di governo, osteggia in tutti i modi la flat tax, non vuole assolutamente neppure sentir parlare di autonomie regionali e sembra poi ingoiare come un rospo le leggi sicurezza di Salvini. Insomma, il governo, come un vecchio motore strausato, si imballa e cominciano i batti vecchi. Arriviamo a noi. Ora vi chiedo, liberatevi dalle narrazioni che vi sono state fatte dai media mainstream, che vi hanno raccontato che Salvini ha staccato la spina improvvisamente, quasi senza aver dato segnali di insofferenza. Non è così. Se ricordate bene, almeno da un mese prima, del celebre 8 agosto, Salvini continuava a dare segnali di insofferenza, arrivando a dire che il governo era fermo e che lui non era andato al governo per tirare a campare. I malumori di Salvini continuavano ad aumentare e più volte ha pronunciato la frase che la pazienza si stava esaurendo. Ricordo tutto questo appunto per ribadire il concetto precedente, cioè si può dire tutto, ma non che la decisione di staccare la spina da parte di Salvini non fosse stata preannunciata da te. Anzi, di più è sembrato, ma è stato molto più che una sensazione, è sembrato che i Cinque Stelle soffiassero sul fuoco, in altre parole che cercassero di far perdere la pazienza a Salvini e lo invitassero proprio a staccare la spina. Probabilmente era una strategia del movimento che vedeva l'abbraccio di Salvini mortifero, in effetti da quando era nato quel governo i Cinque Stelle non avevano fatto altro che perdere voti mentre la Lega li guadagnava. Allora, come sappiamo tutti, gli elettori penalizzano la forza politica che fa cadere il governo e manda il popolo alle elezioni. Era probabile quindi che all'interno dei Cinque Stelle avesse prevalso proprio questa strategia, cioè costringere, tra virgolette, naturalmente, Salvini a far cadere il governo ed andare ad elezioni anticipate avendo già pronta la campagna elettorale, o sia tutta improntata a dare del traditore a Salvini e recuperare così, se non tutto, ma almeno una parte consistente del consenso perso in poco più di un anno di governo. Arriva l'8 agosto, Salvini stacca la spina e gli arriva l'imprevedibile, l'assolutamente imprevedibile. Immediatamente e all'unisono, Matteo Renzi e Beppe Grillo fanno delle dichiarazioni che definirei scioccanti. Renzi, dimenticando le liti, ma che dico le liti, le innumerevoli cause giudiziarie per milioni di euro che lo vedono contrapposto al Movimento Cinque Stelle e al suo garante, annuncia che vuol fare un nuovo governo. Non sapendo come giustificarlo, naturalmente tira fuori la solita storiella che l'Italia, altrimenti andrebbe in fallimento, insomma la solita storia di Monti. Ma ancora più incredibilmente Grillo gli dà corda, arrivando persino a dire che non si può dare in mano il governo a Salvini, in quale fino a dieci minuti prima era il governo, tra l'altro, insomma. Ma c'è una cosa ancora più incredibile, è che a sancire questa unione, questa unione innaturale, assolutamente innaturale, chi c'è? C'è un giornale che per anni sembrava il giornale decisamente più ostile nei confronti di Renzi, il giornale che ha fatto tutte le inchieste nei confronti della famiglia di Renzi, Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il giornale di Marco Travaglio, il giornale di Marco Lillo, a proposito, ma è sparito dagli schermi radar, che fine ha fatto? Vabbè, lo cercheranno a chi l'ha vista. Comunque, Il Giornale di Travaglio, Il Giornale di Marco Lillo, alleati di Renzi. Cioè, non è possibile. Ma tutto questo è accaduto, cari ascoltatori. Occorrerebbe chiedersi come è potuto accadere, cosa unisce Renzi e Il Fatto Quotidiano. Beh, avrebbe da rispondere, nulla. Ed invece qualcosa c'è che unisce Renzi e Il Fatto Quotidiano. Il Bildelberg. Ma torniamo a Grillo e al suo voltafaccia. Abbiamo stabilito che Matteo Salvini aveva praticamente annunciato da tempo che continuando così avrebbe staccato la spina. Quindi, nessuna sorpresa. Ma cosa è accaduto nel mese precedente? Un fatto che, a dir poco, aveva molti lati oscuri. Il figlio di Grillo era stato indagato in relazione ad uno stupro nei confronti di una ragazza, di origine scandinave, una modella, ma comunque tutta una storia dai contorni perlomeno anomali. Questa ragazza, infatti, diceva di aver subito violenza dal figlio di Grillo e da un gruppetto di suoi amici, molto benestanti anche loro, all'interno della villa che il comico ha in Costa Smeralda. La ragazza poi non aveva fatto subito denuncia. Nei giorni successivi era tornata tranquillamente a Milano e solo successivamente aveva asporto denuncia. Ovviamente l'ultima cosa che vorrei fare, sia ben chiaro, è sostituirmi agli inquirenti che devono assolutamente fare luce sul fatto. Mi pongo però una domanda, anche se naturalmente non conosco il figlio di Grillo. E la domanda è, ma secondo voi il figlio di Grillo, con i suoi amici benestanti, con a disposizione una villa in Costa Smeralda, ha difficoltà a rimorgliare qualche ragazza, diciamo, compiacente? Diciamo, per farsi una serata sexy, una sexy serata, secondo voi ha bisogno di violentare una ragazza? Per me se va al billionaire in Costa Smeralda non ha proprio grandi difficoltà, diciamo, a trovare una compagnia consenziente, chiamiamola così. Un'ultima cosa, il fatto risalirebbe, adesso sto andando a memoria, ma all'incirca a metà luglio, ma a parlarne per primo è stato lo storico giornale genovese, il secolo XIX, solo alla fine di luglio, pochi giorni prima quindi, che Matteo Salvini staccasse la spina. Tutte coincidenze. Certo, da statistico figuriamoci se io possa negare l'esistenza del caso, ma ricordiamoci anche che tra due variabili statistiche si calcola il coefficiente di correlazione. Insomma, non so se ho reso l'idea.